Ciao ragazzi, io sono Atilio di PDM Aquapese e oggi siamo su Trollface 4 Ho visto alcuni gameplay di questo gioco, però non è quello originale Questo è Walkthrough Allora, adesso andiamo a giocare al primo livello Questo gioco ragazzi è di un'epicità assurda Allora, proviamo Niente Cioè, guardate qua Che cazzo? Vabbè, il primo livello era facile, dai, il primo livello era facile Ma dai, che cazzo devo fare? Proviamo al bersaglio Niente Sì, avevo visto alcuni gameplay di Trollface Quest Ma non del 4 Quindi non so com'è il 4 Ora andrò a fare questo livello Se ci riesco ovviamente E' una cosa impressionante sto gioco Cioè, ti fa uscire fuori dai grandi, non lo so Come cazzo si fa sto? Ho avuto un'intuizione Era così semplice Cioè, una cosa così semplice A sto gioco te la fanno sembrare una cosa difficilissima A parte che non ha senso fare schermo contro un pupazzo di nero Vediamo provare Cosa si può premere più? La nuova La nuova Semplice Che bisognava far sciagliere il pupazzo E' di un'epicità assurda questo gioco E' di un'epicità assurda Aia Che cazzo sta facendo? L'avete visto? E' fantastico Come cazzo si fa sto livello? E che... Che senso ha? Ma che senso ha sto livello? Non lo so Siamo al sesto livello Non mi aspettavo così bene Forse dovrei prenderlo in aria Non lo so Che schifo Ehi Ehi Si è bloccato? No Ok si è ripreso Si è ripreso dai proviamoci Ehi E dai Ma come si fa? Ma guardate lo premo Non lo so Mi sto mandando Bestia 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 Restia Porca puttana Allora Ragioniamo Tu Stai Ai miei ordini Altrimenti Ti sparo Ma Ma Vaffan Ehm Sto perdendo la pazienza ragazzi Sto perdendo la pazienza Sto perdendo la pazienza Porca miseria Eh Sì 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 Eh questo si blocca Cazzo Guarda che schifo Che nervoso Che nervoso Gli ultimi Tre tentativi Sì Aspettate Andiamo Mi è venuto il mal di testa Mi è venuto il mal di testa Mi è venuto il mal di testa Ehm Forse se avessi un Un po' tutto Moloso Invece di essere quello del Compute Comunque Allora ragazzi Eh mi è venuto il mal di testa Veramente non ce lo faccio più Eh Il video per oggi termina qui Eh Continuerò la serie Perchè lo voglio finire questo gioco Vediamo quanti livelli sono Allora Sono 20 livelli Noi siamo al livello 6 Possiamo anche farcelo a finirlo Ehm Aspettate Devo provare a fare un altro tentativo Allora Siccome ho visto che si può premere in aria Facciamo così No 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 Vabbè Niente da fare Niente da fare Allora Eh Il video termina qui Ehm Iscrivetevi al canale Se vi è piaciuto Mettete mi piace Alla pagina di Facebook Spollicete sotto il video Condividetelo E noi ci vediamo alla prossima Bella Rai Bella Rai Grazie a tutti.